La voce di Antonella Ruggero e l'arte visionaria del torinese Coniglio Viola. Ieri sera al Gobetti per la rassegna Prospettive, che questa sera si espande alla musica elettronica di Club to Club e alla danza con Ambra Senatore, alle Fonderie Limone. Metti insieme i giochi visivi di un artista che ha scompigliato la Biennale di Venezia. La nostalgia della canzone d'autore italiana degli anni 70 è un'interprete straordinaria e ha il concerto senza titolo andato in scena al Gobetti di Torino. L'incontro tra il torinese Braes Coniglio, giovane ma già affermato sperimentatore, e Antonella Ruggero, ormai lontanissima dai tempi dei Mattia Bazar, ha prodotto uno spettacolo di fascino che trattava con melanconia e delicatezza il tema della morte attraverso canzoni come L'uomo in frac, Marinella o L'albergo a Ore. A creare lo spettacolo, oltre alla Ruggero, sospesa su una gonna installazione alta a 4 metri e protagonista assoluta con la sua incredibile voce, gli arrangiamenti elettronici, i giochi di luce e video del Coniglio Viola, la compagnia di Braes Coniglio. Concerto senza titolo esordito a prospettive, rassegna che punta sulla sperimentazione. Altro esempio questa sera, le Fonderie Limone, dove la contaminazione con Torino danza. In scena anche un'altra stella torinese, la ballerina e coreografa Ambra Senatore, nel duetto Passo Forma Breve con Caterina Basso.